Ragazzi, io non ho veramente parole, ma dove vorremmo arrivare? Adesso neanche i bambini piccoli piccoli lasciano stare. Io mi ricordo che mio nipotino a tre anni guardava, a tre anni, è Peppa Pig. E ora guardate qua, prima coppia lesbica tra i personaggi di Peppa Pig. Polemica, e ci credono, cioè non ho capito, va bene tutto, però ora farlo diventare la normalità. Ciò che è normale, nel vero senso della parola, la normalità è quello che è la norma. E la norma, fino a prova contraria, sono un uomo, una donna. Poi ci sono le eccezioni, e nessuno ha niente da dire, facciano quello che vogliono, ma che adesso lo facciano passare per la normalità, mi sembra veramente assurdo. E soprattutto che lo facciano vedere così a un bambino di tre anni. Cosa può capire un bambino di tre anni? Almeno un po' confuso rimane. Immaginate le domande alla mamma e al papà. Ma chi è quello, la mamma o il papà? Questo fanno i bambini, senza girarci attorno.